Ospite questa mattina a Vasto presso la sala consigliare del municipio il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tulio Ferrante, quest'ultimo legato alla città per via delle sue origini ha ascoltato le istanze provenienti dal primo cittadino Francesco Menna e dagli altri sindaci del territorio presenti in aula. Tra queste l'ampliamento del porto di Vasto, il collegamento dell'ultimo miglio con l'omonima stazione, la variante alla statale 16, il ponte delle farfalle che dovrebbe collegare Vasto, la Marina e la Via Verde e poi il raddoppio della Trinina e infine la terza corsia sulla 14. L'onorevole ha poi fatto il punto sugli interventi e finanziamenti messi in cantiere sul territorio del Chietino fino a questo momento dal governo. Si parla di circa 90 milioni di euro di investimenti MIT per la manutenzione della rete viaria fra il Chietino e il Pescarese, stiamo parlando di ingenti investimenti di RFI, non solo la Roma Pescara ma anche il raddoppio della Pescara-Bari, anche il potenziamento della linea adriatica, anche la linea ferroviaria fra Vastra, il porto di Vasto e la stazione porto di Vasto. Abbiamo fatto il punto anche sugli ingenti investimenti PNRR per oltre 173 milioni di euro, insomma siamo riusciti a comunicare ad amministratori locali e categorie economiche il forte impegno del governo italiano rispetto a questa area strategica per il nostro sud.